Basta questo 5 chilometri, basta, ti fa schifo a correre, basta, 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 zio porco, Basta, è troppo grosso, secondo te, è vero o no? Vabbè, secondo te? Papa, volevo dire a tutti i miei followers di Instagram, uno mi ha chiamato e c'era il numero privato, Ma uno, può chiamarmi con il numero privato? Poverai, ma che cazzo stiamo a fare qua? Ma cosa hai in testa? Ma quella che fa il numero? Guarda il telefono e c'è scritto numero privato. Grazie.